Alessio Pignatelli dopo il colpaccio sul campo della Terracina torna al Palasport la Margutta Asp sfidando il Dream Team Casalandia, è una sfida insidiosa guardando la classifica? Sì, sono una buona squadra, hanno fatto 8 punti, quindi sono una squadra che tra l'altro gioca anche bene, quindi sono una squadra assolutamente insidiosa. Che tipo di partita ti aspetti? L'avete preparata in modo speciale questa gara o avete studiato qualche loro punto debole? Lo studio della partita lo faccio sempre, come tutte le settimane, ma più che altro mi aspetto che le nostre ragazze facciano una partita gagliarda e che mantengano un pochino questo trend positivo anche a livello di gioco. Guardando in casa nostra, Alessio, c'era il rischio che la partita persa nello sconto al vertice con Virtus Latina avesse strascichi e invece i strascichi non ci sono stati perché la trasferta della settimana scorsa sul campo del Terracina ha dato conferme e sabato ci aspettiamo ulteriori conferme. Sì, hai centrato perfettamente, nel senso che la partita persa due settimane fa in casa poteva lasciare degli strascichi soprattutto per come era avvenuto il risultato. No, vinciamo 2-0, quindi la sconfitta 3-2 è stata un pochino pesante per quello. Invece la reazione è stata ottima, abbiamo fatto una delle trasferte più insidiosi dell'anno per la qualità della squadra con cui abbiamo giocato e anche, insomma, io temo molto queste trasferte molto lunghe, siamo andati a Terracina e quindi la trasferta è stata lunga. Però devo dire che è andato tutto bene, le ragazze sono state determinate, hanno dimostrato ancora una volta la voglia di partecipare fino all'ultimo momento al vertice di questo campionato. Adesso aspettiamo un'ulteriore conferma questa settimana. Margutta Asp, Dream Team Casalandia, con un orecchio però a Terracina, appunto dove arriva la capolista Virtus Latina, potrebbe arrivare qualche lieta notizia anche da altri campi, Alessio? Chiaramente ci speriamo, ma noi penso dobbiamo guardare il nostro, nel senso che le cose che possiamo fare noi siamo obbligati in un certo senso a farle bene e poi se c'è qualcosa che ci regalano, meglio così.